Ciao a tutti amici pescatori, benvenuti su Nash TV. Oggi vi presento la nuova Z-Bed. Nuova perché nel 2015 la Nash l'ha alleggerita, abbellita esteticamente e rinforzata in ogni suo materiale. Questa qui è la versione SS, slip system, col sacco a pelo integrato, però c'è la possibilità anche di averla senza sacco a pelo. In più, questa qui comunque è da dire che è larga 90 cm e c'è una versione sempre con tre gambe, però larga quasi 100 cm, per i ragazzotti un po' più in carne, oppure per chi vuole stare più comodo. Andiamo a vedere il sopra di questa qui. Come potete vedere è esteticamente molto bella, in classico stile Nash. Questo qui è un sistema brevettato di coperte integrato alla branda. Apertura su tutti i lati, è possibile rimuovere completamente il sacco a pelo e lasciare la branda sola, così com'è. Il materasso è molto morbido, rigido quanto basta. Queste qui sono brande fatte da pescatori, ma anche sviluppate da fisioterapisti e da medici, per prevenire il mal di schiena, come tutte le brande Nash. Optional sono un'ulteriore coperta che è impermeabile, che si aggancia tramite questa clip qua e si può anche dormire senza ombrellone. E poi un cuscino. Questo cuscino ha la possibilità di essere attaccato, ha una cerniera, con più strati, in modo da averlo o più spesso oppure senza strati, se uno vuole dormire quasi col collo attaccato al materasso. oltre al fatto che è brevettata, oltre al fatto che è esteticamente molto bella, questa branda si può chiudere con tutto il sacco a pelo, integrato, anche con l'altra coperta, anche con il cuscino, semplicemente in questo modo. È talmente robusta che possiamo sederci sopra, dondolarsi e la possiamo portare tranquillamente con un braccio. Questa, signori, è la nuova Zed, Bed. Alla prossima!